Lei è il signor Falcetti di Cornarello? Vivo a Cornarello ormai da 30 anni. Ok, allora questa chiesa, come nasce? Le ipotesi che si fanno sono praticamente anche confermate dagli scavi archeologici che è sopra una villa romana, tornita con tanto l'ipocausto, un'aula. L'ipocausto è una struttura che serve per riscaldare gli ambienti facendo circolare dell'aria calda sotto il pavimento. Un po' come i nostri pavimenti riscaldati? Esatto, sì, solo che loro non avevano i pannelli riscaldanti e quindi facevano una specie di camera d'aria e sopra la camera d'aria mettevano una copertura sostenuta da dei pilastrini come quelli che vedi cilindrici, qualche volta erano anche quadrati e li mettevano, bruciavano della legna perché allora il carbone praticamente non lo conoscevano bruciavano della legna, scaldavano l'aria e facevano circolare qua sotto in modo che il pavimento si riscaldava. Questa struttura che è di età romana si pensa del terzo secolo dopo Cristo, no? Quindi quando Milano era la capitale imperiale? Quando Milano era la capitale imperiale esattamente. Questa struttura è servita poi come fondazione, se vogliamo, di una prima aula religiosa, no? I primi cristiani non si raccoglievano nelle chiese che esistevano poche, erano in genere delle ville romane. Quindi il proprietario di questa villa era cristiano e quindi radunava la gente a casa sua? Sì, radunava la gente a casa sua. Questo grosso modo nel terzo secolo dopo Cristo. Naturalmente questa villa romana era stata preceduta da strutture più antiche che sono state trovate in particolare subito fuori a destra dell'apertura di verso. In queste strutture dovrebbero risalire al primo o secondo secolo dopo Cristo. È stato trovato un frammento di ceramica a vernice nera, la cosiddetta ceramica campana, una patera che secondo le conoscenze che si hanno oggi in tutta l'Italia non è posteriore allo periodo italiano. Quindi la prima metà del primo secolo dopo Cristo. Quindi questa struttura primordiale, che non era ancora una chiesa, risale al primo secolo dopo Cristo. Poi su quest'aula religiosa, una volta che la villa romana è stata abbandonata, è stata edificata una prima struttura di chiesa ecclesiale, un abcido circolare come questo. Allora, questo muro circolare non è più la casa romana ma è già l'abcido della chiesa. È già l'abcido della chiesa. Della prima chiesa. Della prima chiesa. Che più o meno di che di che? Di età, se vogliamo, primo a lungo bar, dal VI secolo al VII secolo dopo Cristo. Poi ci sono stati degli ammodernamenti, delle rinnovazioni, e è stata costruita una chiesa proto-romanica, vera e propria, di cui ci sono le tracce di murature, da là in fondo quelle più piccole. Adesso è difficile. Poi proviamo? Grazie a tutti.